Tragedia della strada a Montale con un uomo di 58 anni che ha perso la vita in un incidente avvenuto in via Garibaldi nella frazione di stazione. La vittima, Andrea Mini, residente nella vicina Montemurlo, stava viaggiando a bordo di uno scooter Honda 500 in direzione della stazione ferroviaria. Da una prima ricostruzione della dinamica, il dramma, avvenuto poco dopo le 7, sarebbe stato originato da uno scontro del Centauro con un autobus del Copit della linea quadrata a Liana Montale. Dopo lo scontro, la due ruote avrebbe proseguito la sua corsa con il conducente osmai sbalzato, finendo per tamponare una vettura, una Toyota Yaris, guidata da una ragazza di 29 anni, anch'essa di Montemurlo, per finire poi in un fosso a bordo della strada. La giovane non ha subito conseguenze, ma la sorte è stata drammatica invece per il conducente dello scooter, che per le ferite riportate nello scontro è morto sul colpo. Inutili sono stati purtroppo i tentativi espletati dal personale sanitario fatto intervenire sul posto del 118. Per la vittima, che lavorava presso la sede di Firenze della società autostrade, non c'è stato infatti scampo. I rilievi della tragedia sono stati effettuati dai carabinieri della stazione di Montale, coadiuvati da militari del NORM. La procura ha disposto accertamenti esterni sul corpo della vittima presso l'ospedale San Jacopo di Pistoia. Grazie. 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 Grazie.